Questa è Pagnotta o Zaccarina? Questa è il 9 Dico! Pe, soffa e ripeto Questa è il 9 No, Ziuma Ziuma Chi si presenta sul dischietto dietro se lei sa Per onde? Si sa Quando è stato più nevole? No, è 3 18 erano? Ma è 3 erano E allora tu quanti si fanno? Quanto si fanno? Inoltre che è romano di prima valle però di palazzo Infatti lo scontro che ho visto 10 anni a Roma Uno dei primavalle che... E' roma! Applausi 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 Questo per ombre è un'ottanta Questa è il 5 Ma questo è il padre però Odrigo ciò Grazie a tutti.